Amici telespettatori, a tutti ben ritrovati per il nostro appuntamento settimanale con Trentino Chiama Europa. Proseguiamo il nostro viaggio che ci sta portando a conoscere i fondi strutturali europei, occupandoci dei buoni di servizio per la conciliazione tra lavoro e famiglia. Vediamo di cosa si tratta. Siamo a Roncegno. Da alcuni anni è attivo un servizio molto importante che mancava nella comunità, l'asilo nido. Ora i genitori possono far frequentare la struttura ai loro piccoli grazie allo strumento dei buoni di servizio, finanziati dal Fondo Sociale Europeo. L'asilo nido Nemo di Roncegno è un asilo nido conciliativo, nel senso che il principio che sta alla base di questo servizio è la flessibilità. È un servizio accreditato presso il servizio Europa della provincia, per cui può accogliere i buoni di servizio che le famiglie ricevono dall'ente provinciale, ovviamente a chi ne ha diritto su base ICEF. Sono importantissimi nel senso che qui l'80-90% delle famiglie che fruiscono del servizio utilizzano lo strumento dei buoni di servizio, che permette loro di abbattere la retta del 85% circa rispetto alla totalità del costo. Per cui questo è sicuramente uno strumento che aiuta le famiglie sostanzialmente ad utilizzare il servizio presente sul territorio, che altrimenti sarebbe onerosissimo per le famiglie. I buoni servizi della provincia autonoma di Trento sono stati inclusi in una recente pubblicazione della Commissione Europea, che ha selezionato i 20 milioni di interventi a livello europeo che promuovono con approccio innovativo la conciliazione tra lavoro e vita privata. Dal 2014 ad oggi ci sono stati quasi 29 mila richiedenti, soprattutto mamme, ma anche qualche papà. Quasi 39 mila i bambini che hanno beneficiato di questi servizi. È difficile utilizzare i buoni di servizio? La famiglia può tranquillamente recarsi al CAF che redige l'indicatore e la struttura è organizzata per elaborare i documenti necessari a richiedere il buono di servizio, per cui è tutto organizzato e sistematizzato per permettere alla famiglia di richiedere il buono di servizio. Anche Laura ha utilizzato i buoni di servizio per la colonia estiva. Sentiamo la sua testimonianza. L'ho trovato un servizio molto a favore delle famiglie e l'ho conosciuto tramite altre mamme che l'avevano utilizzato prima e attraverso i loro consigli sono andata all'ad persona, ma all'ufficio di riferimento, dove è un ambiente molto confortevole, ti aiutano in tutto, ti danno spiegazioni, se hai bisogno di chiarimenti e attraverso appunto i loro consigli ho ricevuto questi buoni di servizio che ti aiutano a conciliare il lavoro con la famiglia, quindi sono molto utili. Grazie a tutti.